Ed eccoci tornati. Andiamo, andiamo al Great Bonfire. Sì, 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 era questo. E ora proviamo l'arma... Ah, che bello, trasformata. Vediamo un po'. Ebbè, ebbè, di qua. Oh. Che bello. E vabbè, non è andato il backstab, ma va bene. No, andiamoci a testa bassa, da davanti. E... però, mirami. Oh no. No, ho sbagliato, ho sbagliato. Ah, ok. Dai. Eccolo qui. Prima controlliamo... è infatti... Wow, ho shottato. Ah, un grumo. Allora, aspetta un attimo. Si usano un triangolo. 350. Io sento il... ah, i cani. Aspetta. Tu, via. Che già, ci sono i cani. Va bene. Ah, eccolo qui. Mamma mia, che brutto. Ale. Torcia? No. Qui? Sì, 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 sì. Ce l'ha messa. Ah, diamo fuoco a tutto. E a tutti. Ci andiamo di qui. Ah, pure. E dove finiamo? Non mi ricordo. Non mi ricordo in Bloodborne normale, proprio. Dove si... si arriva. Oddio. Ok. Ah, ho capito. Credo. Questa porta? Dove... siamo? Derelict Estate? Eh? Non c'era in Bloodborne. O sono diventato pazzo. Io, per ora, continuo per di qua. Qui dovrebbe esserci la signora. No? Da qualche parte. Non qui. È qua la signora. Ma stiamo andando troppo avanti. Ah! Niente signora. Andiamo troppo avanti di qua. No? Non è... È infatti, no? È... Appunto. Non è troppo avanti. Io vado. Poi... Eh, qui c'era Eileen. Eh sì. Guarda! Mamma mia! Come l'hanno ricreata bene. Sì. Poi i dialoghi sono gli stessi. Oh, grazie. Aha! Finalmente! Eh? Layton. Oddio! Che spavento! E questo? Vabbè, direi di tornare alla strada originale, diciamo, perché qui stiamo veramente vagando troppo. E vediamo cosa c'è qui. Perché io pensavo che fosse la casa molto piccola che fa da passaggio praticamente dalla prima lanterna fino al punto dove c'era la signora e i cani. Però, mica era così grossa. Ok. Queste le usiamo dopo. Oh... Ah, ho capito cosa hanno fatto. Praticamente hanno... Ah! La sviluppatrice reso all'interno questa parte. Perché qui, penso sia dove, in Bloodborne normale, c'erano questi due che camminavano, ma non era una casa. Era fuori. L'ha semplicemente reso un interno. Uh! C'è aperta questa porta. Ma dove stiamo finendo? Aspetta un secondo. Fammi tornare sulla retta via. Oddio. Ah, ora siamo lì. Io intendevo qui. Dove c'è il signore lì e tutto quanto. Aia! Quindi qui dovremmo tornare sulla via. Perché su di là dovrebbe esserci, su queste scale, il ponte. Che, in teoria, porta al chiedico belva. Eh, di qua, sì? Eh sì, sono proprio quei posti che in Bloodborne originale erano all'esterno. E l'hanno fatti diventare un interno. Eh sì, qui dovrebbe essere il cancello che non si apre dall'altro lato. Tornerei anche indietro. Ah, parliamo con lui. Abbiamo un po' di livelli da fare. Eccoci. E facciamo. Vediamo quanti ne possiamo fare. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Sei. Forza. Abilità. E vitalità. Che ho visto che fanno ancora un bel po' di danni i nemici. E torniamo. Ecco qui. Continuiamo dove stavamo andando. Oh, guarda. Qui c'è l'orda di cani. Di tutto in realtà. Ah, è vero. Mi sembravano pochi. E qui dovremmo essere al ponte. Immagino ci sia il chierico. Cosa c'è di qua? Un mistero. Oh no. Un'altra deviazione. Va bene. Wow. Crotolata aerea. Ah, ma arriviamo alle fogne. Di nuovo. Però non volevo andare qui. Qui ci andavamo dopo. Io volevo andare dal, credo, chierico. Come torno indietro? Cerchiamo di saltare qua sotto. Su questa trave. Oh. Oh. Uh. L'armatura. Ah, l'armatura classica. È certo. Ora sì che siamo Bloodborne. Bloodborne. Ai, ai, ai. Andiamo su di qua. Cos'è successo? È volato. Intuizione. Oh, eccoci qui. Trova la madre della bambina. E ci ha dato la music box. Il carry-on. No, 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 no. Ma... No, 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 no. Ora voglio vedere se c'è il chierico. Non c'è nessuno per ora. Però arrivava... Arrivava non subito. Là c'è l'oggetto che era... Mi sembra forse altre... Oddio! E beh, direi che c'è. Wow! Ma è bellissimo. Ma è più bello di quello di Bloodborne. No, non è vero. Però, molto bello. No, l'ho mancato, dai. Oh, ho preso. Preso. Wow, la musica pure. Vai, vai. No, non moriamo, eh. Aia! Recupriamo un po' di vita. Saltone. Via. No, ci ho preso. Aiuto. Aiaiaiai. Ma è bellissima sta cosa. Dai che lo distruggiamo. Una. Due. Uh, stordito. Vai. Vai. Pure? Uh. È ancora vivo. Ale. Oh. Wow. Wow. Ci ha dato la... La badge per comprare cose nuove. Wow. È stato incredibile. Oh, proiettili. L'ha proprio ricreata benissimo per essere su PS1. Nel senso che certe cose sono un po' diverse. Magari il salto è più facile da schivare, per esempio. Ma è giusto così. E ci ha dato anche un sacco di echi. Direi di... Usarli. E abbiamo anche... Come sei. Ah, perché abbiamo battuto il boss. E quindi ci ha dato altro insight. Tinta del sangue. A meno a dieci. Endurance. Direi di metterli a forza. E va bene. Sette. Tre. Mm. Tre. Apriamo. Andiamo sul balcone. Ah, sì. È il... Esatto. Dove puoi... Mettere i vestiti. Blackwood. No. No, poverini. Pensavo servisse a cambiarlo. No, 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 no. Scusatemi. Scusatemi. Vai. Ma che belli. Ma cos'è? Bellissimo. Ma neanche in Bloodborne è così bello. Dai. Vediamo se possiamo potenziare l'arma. Sì. Potenziamo. Uh, giusto, giusto. Abbiamo anche il badge. Da dare a loro. I vestiti. Della... Dell'automa. Però costano tanto. Va bene. Wow, è sempre più bello. È veramente bello. Guarda, ora abbiamo l'armatura. Io, come al solito, vi ringrazio. E ci vediamo sabato prossimo con l'episodio 3. Grazie. ... ... ... ... ... Grazie a tutti.